con qualche dipendenza ce ne andiamo in eccellenza non è il massimo del del bontano la maglietta però matteo conti fatti oggi potete festeggiare come volete perché avete stradominato questo questo campionato arriva anche andrea gallo il portiere rosso blu e dicevamo il campionato stradominato un po ci credevate l'estate scorsa un traguardo di questo tipo no no sicuramente i pronosti c'erano altri ne eravamo magari nelle cinque la griglia playoff diciamo nemmeno poi una squadra appena nata da una fusione quindi allora vorrei solo dire una cosa io e questo ragazzo qua insieme a burastero 93 93 94 da quando abbiamo cinque anni giochiamo a loano siamo di loano nati a loano e per noi vale 10 volte rispetto a tutti gli altri ma senza nulla togliere però è stata veramente una roba fantastica e vi assicuro che per noi di qua è diverso prima la partita io sono letto per noi diversi e quindi per noi che siamo cresciuti insieme qua qua in questo campo e vale 10.000 davvero davvero grazie loro ciao tra l'altro siete due resta qui perché siete due due esponenti no a parte quello però due esponenti di due reparti dove c'era veramente tanta tanta quantità e qualità diverse però durante l'anno ognuno ha avuto diciamo anche col mister ognuno ha recitato in diverse fatte della stagione un ruolo importante per arrivare fino al traguardo eccellenza il discorso secondo me è stato proprio c'è il fattore che ci ha fatto vincere il campionato è stato proprio questo che nei diversi momenti della stagione per comunque l'anno è lungo anche se qualche uno in due in più poi vedi che tutti servono e in una situazione dove si è tutti considerati uguali dove tutti ha la stessa importanza in un gruppo sano come questo fa la differenza perché chi ha giocato se si è sempre fatto trovare pronto anche chi magari ha giocato meno in certi momenti ha giocato dopo ci sono stati dei infortuni a me a lui ad esempio delle squalifiche lunghe però tutti si sono fatti trovare presenti è un grosso merito all'allenatore e comunque al gruppo di ragazzi intelligenti che c'è quello che ti volevo dire all'inizio magari non eravamo i favoriti ma con un gruppo così non puoi non puoi perdere sostanzialmente assolutamente vale con questa squadra qua comunque con un budget che è un quarto rispetto a quelli degli altri eccetera è una vittoria di un campionato incredibile che resterà scritta nella storia di loano dei loanesi e nei nostri cuori per sempre davvero avete studiato la foto da fare sul lungomare questa sera sarà qualcosa di diverso allora la foto ci accompagna dalla prima giornata veramente dalla prima di coppa e la faremo c'è già la frase pronta visto che tu mi chiedi sempre dove trovo determinate frasi sarà leggermente diversa è semplice e semplice saranno tre parole però ti aspetto poi quando la vedrai mi manderai un commento come sempre però sai alle cabale noi ci crediamo adesso andiamo a fare la psg dentro lo spogliatoio e poi quella sul lungomare tutte insieme